Vincita record a Marsala, un milione di euro in una tabaccheria di Contrada a Ventrischi nella periferia sud della città. Con una scheda Million Day, appunto, un fortunato vincitore è riuscito a intascare la somma di un milione di euro. Naturalmente fino a questo momento non si conosce l'identità del fortunato vincitore e nella tabaccheria di Contrada a Ventrischi e per così dire caccia all'uomo nella speranza naturalmente che la vincita sia andata a qualcuno a cui davvero bisognano tanti soldi.